Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Terratech In caso non l'aveste ancora fatto, vi ricordo che in descrizione trovate il link per comprare il gioco e per partecipare al giveaway mensile Oggi, episodio un pochettino tranquillo, almeno alla parte iniziale Infatti, come vi ho promesso, andrò a disintegrare completamente il mio tech e a rifarlo, ovviamente, perché sennò senza tech non facciamo molto Con tutti i blocchettini nuovi Ora, c'è il problema di venire attaccati? Sì, perché i nemici comunque continuano a cadere Però non è così grave Quindi, per le emergenze, io questo me lo salvo In caso arriva qualcuno a darci noi e ne abbiamo già uno pronto per la guerra Ma la realtà è che va distrutto tutto, ovviamente C'è poco da fare Per il momento, però, fino a quando non mi servono quei blocchi precisi Lascerò attivo il mio vecchio tech e andrò a costruire direttamente su questo agigino minuscolo Di blocchi ok ne ho veramente pochi Però, tecnicamente, penso di poterli anche andare a comprare 500 l'uno E... costosetti Vabbè, un po' di shopping lo posso anche fare Però ve lo dico, non esagero Ho deciso di fare il tech più lungo che largo per un semplice motivo Se dovessi mettere le ruote sarebbe effettivamente un rettangolone troppo lungo e poco largo Ma siccome le ruote che vado a mettere io sono queste e hanno due slot sopra Raga, praticamente già ritorna un quadratone Oltretutto il tech pari mi serve a me perché per altre cose è molto molto utile E lo andrete a vedere dopo Mi servono i cingoli che sono sul mio vecchio tech ma siccome momentaneamente ripeto che non lo voglio disintegrare Andrò a utilizzare delle ruote a caso Ma raga, ripeto, è una cosa momentanea questa È giusto così? Intanto posso posarlo a terra e mettere la strumentazione per testarlo Allora ho messo una batteria, lo scudo, i primi posti per le armi Quindi potrei già cominciare a metterci qualcosa Cominciamo col trasferire questi cosi qui che mi fanno veramente impazzire e li voglio assolutamente mettere sul mio tech Poi ovviamente queste armi qua I pannelli solari sopra E poco a poco sposto anche l'altra batteria ora Anzi ora che io ho messo le prime armi posso proprio disintegrarlo questo Cioè già dovrebbe funzionare se metto le ruote è ok Messa la bolla riparatrice, il radar, mancano soltanto le ruote Cioè soltanto Soprattutto E cosa non da poco, io l'ho fatto un po' lungo il mio tech Ne sono consape... No, in verità stanno benissimo, sono perfette Ok, pensavo la dimensione non fosse corretta, invece è giustissimo Solo che facendo così sta molto vicino a terra Ma è tutto sommato Non dispiacerebbe metterlo un pochettino più forse sollevato Anche perché raga, ho detto voglio farne uno più grande E ho rifatto il cosettino minuscolo Però tranquilli, mo ci arriviamo È giusto per test questo Quindi proviamo a metterle un filino più in basso Ma si impenna un casino Assolutamente da comprare altri blocchi da mettere dietro È troppo instabile, avendolo messo anche così alto raga è veramente un no Fino a che ci stanno nella bolla direi che va bene Ecco così escono appunto Beh qua ho altri bei cingolini Il fatto è che sono un pochettino, un po' tanto più piccoli Eh sì, cioè posso dire però nemmeno troppo Eh insomma, il fatto che li tenga sollevati non va bene questo Però questi qua sono fatti per stare sotto Eh sì, meno male che di blocchi base ne posso comprare quanti voglio Proprio in modo infinito Se no raga, qui si metteva veramente male Eh vedete, questi qua quasi quasi ci stanno eh Ecco non so quanto reggano Magari alla prima buca li distruggo Quello può anche essere Poi qua l'ancora dal cielo Per il momento l'attacco qui Ma ovviamente devo poi spostarla Devo soltanto trovare il posto in cui metterla per bene E qua sotto devo finire con questi cosettini da mettere Raga, l'abbiamo messi Mettiamoli completi, ovviamente Ok Ora siccome potrebbero tranquillamente andare a toccare terra Quando freno velocemente o quando atterro Va messa una ruotina davanti Un ruotino a caso proprio Oppure ho un'idea migliore Questo qui quanto spazio occupa? Qua, ok vuole il blocco libero E questo non gli va sopra Quindi in verità potrei risolvere tutto Spostando questo leggermente più avanti Tipo così In questo modo dare molto più peso alle ruote Ah ma così l'ho riabbassato No questo, questo non lo volevo Ok però ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Giusto un pelino più avanti In questo modo non toccherà mai per terra E va bene Eh le ruote dietro confermo Fanno veramente, veramente schifo ragazzi Troverò una soluzione prima o poi Eh se l'ancora la mettessi qua Non è male Guardate Qua sbam Messa Tanto non è una vera cosa Che mi tiene fermo lì La metto Mi solleva Sembrerebbe Però vedete Poi mi posso allontanare Se mi allontano troppo Cosa succede? Oddio raga Ok no Mi tira indietro Un po' Non mi posso più allontanare Cioè ma guardate che figata Io in questo momento sono ancorata a terra Con i pannelli solari spiegati E questo Ma bellissimo Veramente veramente bellissimo Non so perché non ci abbia pensato prima anche in multiplayer Che non l'ho ancora fatta sta cosa Però spettacolare C'è poco da fare In questo modo avendo messo in linea anche queste cose qui posso andare a mettere altre armine qua davanti E guardate che bello quante ne ho però ne ho tre di queste ok bene 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 Posso mettere altre armi laterali e sì la posso mettere volendo qui così con un'altra sotto Però attualmente non si può perché avendone tre ci accontentiamo di una per lato Dai perché no Abbiamo anche un po' di mortai Precisamente sei Quindi tre di qua Tre da quest'altra parte Come il mio vecchio tech appunto Non è chiamato nulla da quel punto di vista Un piccolissimo lanciamissili Ma amici piccolissimo Raga non pensavo fosse così grande Ma li posso comprare perché il grado è Mannaggia non me lo dice Vabbè guardo se lo posso comprare direttamente Eh sì 19.000 Cioè io di tutte le marche Che queste sono le armi che posso comprare No c'è qualcosa che non torna Però vabbè Li posso prendere E andiamo ragazzi Ho gli unici razzi che mi posso permettere veramente Quindi se li facciamo andare bene Tra l'altro se li metto così Sparano lo stesso Sì sparano anche se sotto c'è quello E allora ragazzi vi dirò Altro che due Ne prendo quattro in tutto Sinceramente manco sapevo da averli Quindi buono Qua ovviamente altri pannelli solari E ragazzi io boh ho messo le cose qui Ma potevo spostarle anche più indietro Cioè dovrei utilizzare meglio lo spazio Ho messo sta piattaforma Ma non mi serve a nulla Se la tengo così Boh rimetto le batterie a vista Ovviamente rimetto i due giroscopi Che avevo levato E compro qualche altro blocchettino Per proteggere meglio qua Che insomma è un pochettino troppo a vista E siccome il nucleo C'è tutto qua dentro di importante Cerchiamo di non fare danni Ecco C'è da dire che ho altri slot armi Ed è veramente un peccato Non utilizzarli Quindi Cosa facciamo? Spammo queste qua Sono armi veramente ottime Le ho sempre utilizzate E non mi hanno mai deruso Sinceramente Qua volendo ho pure gli slot Per mettere qualcosa che occupi Un pochettino più di spazio Però Non saprei cosa Eventualmente Oddio Una cosa ci sarebbe Ho questo mega laser al plasma Da provare Direi che siamo pronti Ma prima Una singola batteria extra Altre tannicozze Che ci piacciono un casino Queste qua E per finire in bellezza Direi ovviamente Altri due mega turbo dietro Che non bastano mai In verità Sì bastano e come Però Per noi no Potrei anche metterne altri due Tipo attaccati qui così Bah Dipende se è stabile il tech Sicuramente consumo un casino Però Boh Potrebbe essere una buona cosa Disancoriamoci Andiamo a testarlo Per me ragazzi Con le ruote dietro così Mamma mia Chissà quanto dureranno 3 secondi Velocità 180 Superati di gran lunga Testiamo le armi I razzi Pazzeschi C'è poco da dire Ma il laser Non lo so Devo vederlo Non va troppo lontano È questo il problema Tutte le armi sono buone Queste qua spammano tantissimo Queste vanno Stralontani Mamma mia ragazzi Che belle queste qua E cavolo Per me Tanta roba Poi scalare Scala benissimo In questo momento Non riesce a girare molto bene Ma va bene Il turbo Penso che possa Fare andare pure Non so Penso di poter volare Con sta roba E posso dire una cosa Mi sembra anche molto molto bilanciato Wow Non è roba da poco Per un tech appena costruito Detto questo Regà Missioni Si vanno a accettare tutte quante Tanto non abbiamo portato nessuna Al massimo A parte questa qua Della Geocorp E vediamo un attimino Cosa fare Perché ora Si farma tantissimo Il tipo della OK Ci dà 75 di Exp Per distruggere una torretta Può andare bene Come cosa Ma regà Io direi anche di salvarlo Facciamo un bel Serio 2 Ho soltanto paura di una cosa A parte che è a scendere Che possa essere troppo costoso E di conseguenza I nemici Un po' Che hanno troppo P Tipo laggiù Ho visto che è sponato un coso Che ragazzi Preferirei non trovarmelo davanti E spero veramente Che sta missione Ci dia qualche ruota migliore Ragazzi Perché queste qui Della Geocorp Io ve lo dico Prendono un po' Troppi danni C'è anche un nemico qui Ah Già subito partita la missione Ok Si C'è la torretta Che è subito qua sotto Vuole che la distrugga Quindi in verità Senza P Non si può conquistare Ma posso sceglierlo Io E' vero si Posso fare così Così spara lui Ragazzi Che figata La cosa del puntamento No Se no continuiamo a spararmi A quello accanto E ovviamente Non finiva bene Quindi distruggiamo questo qua Perfetto Ah io sparo Sparo ma alla fine Non ho killato nessuno Nemmeno la torretta Cioè è rimasta laggiù Ah ma ho finito la missione Cioè Mi ha dato anche già il drop Cos'è sta roba E beh si Sembra roba da drop Queste sono due razzettini Insomma Non potentissimi Ma Comunque Boh Interessanti Ah Oltretutto C'è una cosa Importantissima Che mi sono scurato di fare Del tech Ragazzi Voi il tech lo vedete così Ma Ci sono le skin Su sto gioco E io Boh Non l'ho mai utilizzata Nell'ultima serie effettivamente Non so nemmeno se le avessero già messe Oppure no Sta di fatto che Possiamo modificare l'aspetto E cambiare il colore Di ogni marca Tipo ad esempio Io della GSO Ho soltanto le tannicozze qua dietro Vedete Sbam Sono diventate così Qua ho Le robe gialle Che sono della Geogor Poi le ho messe arancioni Quelle delle better future Le posso mettere rosse e nere E non è affatto male Ragazzi così È molto molto più carino No raga Guardate che figata Se metto questo Ma Che colori pazzeschi L'aventure Con questa skin qui È proprio bellissima C'è poco da fare Tutto questo Dovevo ancora testare A velocità io Con quei cosi nuovi 190 faccio Però non ho visto prima Se effettivamente No 190 Ma quasi 200 Raga eh Insomma Bello veloce Il fatto è che le ruote Non sono molto resistenti Né davanti né dietro E consumiamo Veramente Un casino Di carburante Ragazzi A fare sta cosa Ragazzi Volare Direi proprio di sì Facciamo dei bei voli Sarà bilanciato Sarà che Grazie al giroscopio E non come l'ho fatto Però intanto Non mi lamento E mi va bene così Siamo arrivati all'emissione Penso che ci vada A insegnare delle cose L'allenamento L'allenamento di fluttuazione Ma Non si era fatto L'altra volta Non me lo ricordo Avevamo Fatto qualcosa Con lui O no 55.000 No ok Non avevo mai speso così tanto Al massimo 10.000 E che ci dai scusa A sto giro Cioè mi sembra un po' Troppo 55.000 Cioè stiamo finendo i soldi Signori Ma è lo stesso Dell'altra volta Non mi dire che mi hai schiammato Assorbo un attimo un tech Tanto questo qui è salvato E andiamo Ah io Mi sono schiantato brutal Ah è un percorso Ecco perché E no non so se ci riesco Io sono un po' schiarsino In queste cose Anche perché No vabbè lo spazio per uscire È assurdo Vabbè era facilissimo Ma signori Ma io pensavo fosse una cosa assurda Era praticamente una linea dritta Con due curve E che ci dai? Beh Questa cos'è? Better future batteria Che è sponato là? Un piccolino Facciamo che mi riprendo il mio tech Prima che sia troppo tardi? No cioè non vorrei dire Ma se no qua me la rischio In un modo assurdo Poi questo razzo a sfera E queste sono le cose Che ci fanno Levitare un pochettino Ma raga Sta batteria qui Sinceramente Occupa due di spazio Io più che volentieri Me la metterei qua dietro Così Guardate che carina Ci sta proprio bene bene Tra l'altro Ora che ci penso Questo coso qui Si è sempre saputo Che appunto Se lo attacco Quando sono ancorato a terra Si attiva Ma Mi rompeva Perché non c'avevo mai lo spazio Per portarlo dietro Poi ogni volta ancorarmi Era un disastro Anche perché Magari mi ancoravo qua Assorbiva le cose di qui Però gli oggetti erano più in là Così che sono ancorato Ma mi posso muovere tutto Sapete che Cioè Quasi quasi Me lo monto fisso addosso È molto comodo Però occupa tre di spazio E che cavolo Eh no Quello è un problema Vabbè Facciamo finta che non abbia detto niente A due chilometri da qua Abbiamo il super giro della morte Io direi di andarla a fare Ma prima Pensiamo alla morte Di questo tech Qui lezzissimo Che ci sta importunando Come sempre Raga super giro della morte Potenzialmente Il mio tech Non va bene Ci mancherebbe Però cavolo Vado quasi a 200 all'ora Cioè se non ti va bene un tech Che va a 200 all'ora Che sicuramente Per forza centrifuga Sta attaccato alla parete Non so cosa ti possa andare bene Ok Lo vedo in lontananza Ragazzi Lo vedo in lontananza Però Cerchiamo di fare un atterraggio decente Quasi Quasi Se volo poco Va benissimo Se faccio un volo Lungo Un po' troppo Tendi un attimino A inclinarsi verso il basso Non è una cosa bellissima Cioè vedete E poi magari Mi schianto di cattiveria Con la potenza al massimo Potrei esplodere Non lo metto in dubbio Potrei esplodere Ma spero di no Comunque Non è così piccolo Quindi in torno Il mio tech Ci va alla grande E il turbo al massimo Lo facciamo tutto Quindi ragazzi Andiamo Ho già No 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 Dai Ma mi sono appoggiato Un attimo E vabbè ragazzi Ci ho già rimesso Un pezzo di arre importantissimo Tra l'altro lampeggia così tanto Qua Se per sbaglio Mi esplodeva anche quella accanto Secondo me Saltava tutto in aria Stiamo super attenti A come si atterra Non ne ho un altro Quindi la meglio E Ribaltare questo così Ragazzi riprovo Dobbiamo leggermente curvare Mentre si scende Urca che male No Devo curvare molto di più Il fatto è che devo curvare Alla cieca praticamente E qua Si è smontato Dirà malissimo Vero Ragazzi Per una missione così stupida Ci devo rimettere il tech Seriamente Stavolta parto direttamente inclinato E vediamo se ci riesco Ehm Sì Sì Dai Buono 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 Ho rotto qualcosa A sto giro no Incredibile ragazzi Incredibile Speriamo che ne sia valuta la pena Ti prego dammi Un altro razzettino Oh quanta roba Però niente razzettino Questo è mio Vero? È un pezzo l'avevo perso allora C'è qualche altra missioncina? Vabbè Tutte e tre buone I numeri sono in calo Sono dato Sai cosa significa? Che devo killare tutti ovviamente E infatti Mi sa che vuole che vada a killare Un bel po' di tech nemici Quanti però? 20 Beh non è tantissimo Ci facciamo Anche sta missioncina 250 metri E poi nuovi principi di fluttuazione A due chilometri C'è da fare un po' di strada oggi Ma ne vale la pena dai La cassa l'ho vista E lassù Sarà un'imboscata? Ultimamente ci va bene Non lo è mai E appunto Andiamo anche a sto giro Blocchi giganti Ok A gratis Quindi non mi lamento Ma valuto soltanto per l'exp Perché il drop Come sempre Non ci siamo Andiamo a trovare quindi Ubl Nel mio tech c'è qualcosa Di leggermente sbilanciato Quando accelero Guardate un pochettino Va sempre leggermente Verso sinistra Le uniche cose differenti Che ho messo Sono queste qua dentro Ovvero che a destra qui C'ho un blocco A sinistra la cabina Anzi no A destra nemmeno c'ho un blocco C'ho Lo scudo avok Ah ma non è che forse Questo lo sposto in qua Forse va meglio Vediamo No è uguale Sembra che ci sia più spinta Nel lato destro Non capisco Forse anche per quello Che prima non riusciva a superare Il coso a 360 gradi Se usavo il turbo Mi spingeva a sinistra Mi buttava fuori strada Tutte le scuse sono buone Eccoci di nuovo qua Oh però Sto giro Non farmelo difficile Già che Eravamo partiti Che dovevo attraversare Da un coso tutto dritto Poi mi ha messo le curve E ora mi fa Far cose strane E soprattutto Non provare A farmelo comprare Perché insomma Prima 55.000 E sono abbastanza sicuro Che potevo tranquillamente farlo Infatti No 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 Mi ridà lo stesso ragazzi Non facciamoci scammare Vado in carica tech E come vedete Ah ma io me l'ho salvato L'MK5 Vabbè Va bene lo stesso no? Spero di sì Vediamo un pochettino Sì ok Parte funziona Alla fine lui vuole Qualsiasi cosa Che riesca ad attraversare Questi cosi Già che a terra non puoi Perché sono leggermente Sollevati in aria Forse potrei farlo Con un aereo No Probabilmente vuole Che abbia i blocchi Che dice lui Ma tra l'altro Non è nemmeno a tempo Questa roba Quindi posso metterci Anche 20 anni Raga ma quanto è facile Sta missione quindi Cioè potrei anche bloccarmi Farmi un panino A metà percorso Come sempre Apriamo E raccattiamo A sto giro Ui cos'è sta roba gigante? Ah è una specie di fabbrica Rotine Questo forse è uno scudo Un motore di ingrandimento Gravità Questo? Una lama al plasma Ma il serio 2 Che ho fatto ora Costa 400.000 BB Costosetto Mi dicono Della Better Future Abbiamo anche questi due blocchi Ora non mi ricordo Cosa facesse uno E cosa l'altro Ma uno dei due Era molto molto interessante Quindi provo un attimo A metterlo qua sopra E vedo l'interfaccia Che mi dà E sì È quella che penso io Vi spiego Vi spiego La Better Future Fa le cose fluttuanti Fa le cose fluttuanti Ma queste cose fluttuanti Hanno una potenza E deve essere regolata Ad esempio Qua abbiamo delle piattaforme fluttuanti Dell'Aventure Cose che io ho sempre utilizzato Sostanzialmente Siccome il mio tech dietro Tende a dare troppo peso A queste routine qua Io dico Boh Vabbè Voglio mettere un attimo Questa roba qui Per alleggerire il peso Che ha dietro Qual è il problema? Che queste robe Sono così potenti Che guardate un pochettino Il tech Mi rimane impennato Andando a mettere questo qua Che tra l'altro Mi avete consigliato voi Quindi ragazzi Grazie mille di questo consiglio Posso intanto Disattivarle quando voglio Ma oltre a poter disattivare E attivare ovviamente Posso andare sulla destra E andarne a regolare la potenza In questo caso 50% è troppo Lo metto un pochettino più basso Siccome io voglio che tocchi terra O addirittura che non tocchi terra Ma comunque di poco Abbasso ancora un pochettino E guardate Qua è vero Le ruote dietro sono inutili Perché non toccano Già Però C'è comunque una spinta Dall'alto verso il basso Che fa un po' Un po' da ruota L'unico problema in questo caso È che potremmo fare Effetto derapata Che magari slittiamo un pochettino Ma in teoria La velocità ne giova No Forse andiamo anche più lenti Ah no Andiamo più lenti Perché io ho perso due razzi Raga Altro che Un razzo E devo dire Che è molto molto interessante Certo ora Mi sembra di curvare Addirittura Molto più di prima No in verità vado dritto A sto giro Buono Potrei metterlo anche Leggermente di meno Già mettere un 7 E meglio di 0 Quindi sicuramente Anche se toccano le ruote per terra Vanno a Leggerire di molto Il peso che portano E secondo me È già una gran cosa Però no Vorrei mettere comunque Un pedino in più 8 va benissimo Andiamo Tanto sti cosettini qui Leviamo il ritorno Che ci facciamo poco a poco La missione per l'ok Voglio andare un po' Verso questa base BB qua vicino Magari c'è qualche missione Al volo interessante Da fare all'ultimo Esploriamo come sempre La zona E diamo un'occhiatina Beh C'è C'è parecchia roba Due missioni Di rifornimenti Sempre il coso di fluttuazione E un tracciato di gara Questo suppongo Sia un po' più difficile Però Prima i rifornimenti Beh se mi facessero cadere Qualche nemico Non sarebbe Eh no Inutile 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 dirlo Ormai I nemici dalle casse Non escono più Perché per una volta Mi sarebbero utili Già che devo fare un po' di kill Invece no Non va bene Ora l'ho chiamati Come il minimo Mi escono qua E mi distruggono tutto Eccoli appunto Appunto A sto giro sì Vediamo anche se sono forti Io intanto prendo le distanze Allora Non da sottovalutare Ma tecnicamente Piccolini Però ripeto ragazzi Mai sottovalutare questi qua Ho dovuto sempre stare attenti Alle batterie E li vediamo anche Oh ma Gli ho finiti Che cavolo Ma la cassa in faccia Tu sei folle Tu sei folle Con ruota schifosa Arma lezzissima E blocco doppio Mi sarebbe servito Per costruire il tech E ho usato tutti i blocchettini singoli Però ormai l'avevamo fatto Quindi non mi metto a rifarlo Per una cosa così Mentre quest'altra cassa Che ci dà E vai via te Altre ruote Cingoli ruote Però sono quelli brutti ragazzi Non sono i cingolini che voglio io Quelli giganti Sono quelli fini Non Boh magari sono meglio di questi Che sto usando ora sicuramente Però attualmente non mi interessano Ultima missione di oggi Tracciato di gara di fluttuazione Se come quelli di prima Non c'ha tempo Era abbastanza facile E quindi Suppongo che si possa fare Hola Eccomi qua Allora ancora non hai capito Che io non te lo compro quel coso No Non lo prendo Carico il mio E sto a posto così Andiamo E non è a tempo nemmeno stavolta Quindi raga con calma E facciamo tutto Però devo dire che Questo coso che mi ha dato lui In verità È un po' ingovernabile Cioè io Io non voglio lamentarmi di tutto Ma Non è che sia proprio fatto benissimo La butto lì E poi ora che ci penso È notte E io ho le batterie Come me le ricordo Uuuuh Cos'è sta roba Allora intanto metto sto coso Ma dimmi cosa sei Ah una led Ma io penso fosse una mega arma Stranissima Al plasma e tutto No niente Però visto che c'è un'altra bollicina Abbiamo il pip antigravità Questo è molto carino Praticamente ci fa una bolla di antigravità Nel nostro tech Il problema È che l'antigravità Può sembrare una cosa utile Figa Probabilmente lo è Ma se la mettiamo in un tech a caso Come il mio Cioè comincia a svolazzare a caso Senza controllo E non è proprio l'idea più brillante Che ci possa venire in mente Comunque Io Boh Ricarico il mio E non so come fare A ricaricarmi le batterie Mi sa che devo andare verso gli alberi E mettermi addosso Un generatore Sì Ne abbiamo uno Perfetto Giusto per sopravvivere alla notte Nulla di che Ma quasi quasi ce lo potrei anche lasciare Veramente Cioè Vado a giro E Così E Boh Faccio corrente Due tacchettine bastano Ma stavo anche rifacendo giorno Quindi Direi Sì basta Detto questo Abbiamo un po' di batteria Ripeto Sta per fare giorno Tech nuovo In questo episodio Devo dire per me funzionale Poi raga Ditemi voi cosa ne pensate Mi chiedete sempre tech differenti Ho provato a fare una cosa differente Anche se un po' a caso Non è ottimizzata Ripeto Ma Quello si può sistemare con calma Fatemi sapere voi cosa ne pensate Come l'avreste fatto Cosa andreste a cambiare A modificare Tutto Detto questo Vi abbandono qui Spero che il video vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti